musica musica No no ragazzi, iniziamo questo viaggio che Angrima a Napoli, dietro c'è stato un attentato ai mercanti di Natale di Berlino, qualcosa di orribile. Sono sempre nove morti. 12. Senza contare che poi i bambini vivono dei momenti veramente di stress. Allora ci troviamo al ristorante Scossa, qui a Parigi vicino a casa nostra, e qua che cosa abbiamo preso? Ho preso delle sardine, aspetta, io ho preso la burrata di San Danilo, ma mi aspettavo che era così alzata. Le sardine in scatola, aspetta. André qua, che da parecchio che non la mangio, della verità. Filetto al pepe. Pure e pomme di terni. Pomme di rana. Cioè, la granaia. Ho fatto la rana. Sto passando l'orzaiolo. Sto passando l'orzaiolo. Ma adesso si è fatto il puntino rosso, sai quel puntino solo. Prima era tutto bello, pieno da tutte le parti. Prima si parte. Stiamo partendo. bella giornata, molto fredda. Allora, più tardi dall'aereo. Buona giornata. Si parte. Si parte. Speriamo che si arrivi. Siamo, come quel calciatore che ha fatto tutto il mio figlio. E i tagliolini si gestano totalmente cambiati. Molto più costi. Molto più classe fisica. Molto più bella larghezza. Sperata. Sperata. Buona giornata. Sperata. Sperata. Grazie a tutti. 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 e a tutti. Iniziamo.